E finalmente qui siamo, Alberto Zambelli. Alberto Zambelli è il designer più chiesto di questo giorno, oggi. Complimenti per la sfilata. Qual è stata la sfida di quest'anno con una collezione splendida? Allora, la sfida è stata chiaramente aprire la settimana della moda con un'energia in bianco. Sono partito dalle statue di Canova e le ho raccontate attraverso i bianchi di Canova e anche attraverso la materia che ho lavorato a Manichino e ho reso fluida e fluctuante. Chiaramente poi ho avuto delle collaborazioni, ho fatto delle collaborazioni sul discorso stampa e quindi abbiamo dipinto a mano delle opere di Canova, proprio come trasferire il messaggio a porte nella collezione. Per quanto riguarda i materiali ho lavorato sui bottoni più strutturati e sulle leggerezze, sulle scinfone e quindi la parte serica che io ho. La cosa che vorrei dire è che non è solo il concetto della collezione che era assolutamente unico, perché alcuni dei nostri incipiti ogni anno sono incredibili, come questi anni, le twinze e il uso delle forme e delle scutte. Cosa ti fa essere un manager, un creativo e un PR anche perché sei bravissimo? Diciamo che ormai è da qualche anno che comunque sfiliamo Milano Moda Donna, chiaramente ogni volta è una prova, ogni volta è un qualcosa di diverso, è una novità, però ormai lo stanza meglio si riconosce, si riconosce nelle leggerezze come qui a fianco, nel lavorare la materia con grande femminilità e soprattutto comunque non abbandonare sempre il discorso anche di mercato. Il mio mercato è l'Asia e soprattutto la Cina in questo momento, quindi è importante capire anche la direzione di mercato che puoi seguire. Questo fa diventare manager, un designer, oggi bisogna essere di entrambe le cose. Perfetto, quindi noi stiamo aspettando per voi in Cina anche, abbiamo un progetto con l'Italian Way in Shanghai anche, quindi presto ci vedremo per voi per i giorni. Grazie, ciao!